Lunedì alle 15 alla Camera di Commercio l'atteso incontro tra il sindaco Melucci e il commissario dei giochi del Mediterraneo, Ferrarese. A proposito di giochi, sarà bene portare a termine una serie di infrastrutture viarie assolutamente necessarie alla città e che proprio in quell'evento saranno indispensabili. Il pensiero corre veloce al completamento dei lotti iniziali della tangenziale sud che collegherà finalmente il ponte Punta Penna agli svincoli per la base navale ai quartieri meridionali di San Vito e Lama e soprattutto con la popolosa borgata di Talsano. Anche questa una storia infinita nella nostra città che ha a che fare con le lentezze della burocrazia ma anche con l'incapacità di andare avanti celermente per portare a casa un risultato. Parliamo di molti anni se non lustri e decenni per fare 5-6 chilometri di strada. Nel secolo scorso, per fare un esempio, l'autostrada del sole tra Milano e Napoli si realizzò in sette anni. I lavori per la tangenziale sud hanno avuto una serie di impedimenti per il secondo lotto tra i quali l'attraversamento di condotte elettriche e idriche. I lavori sono ripresi proprio il primo agosto scorso, come ha informato la provincia di Taranto, con un cronoprogramma che prevede la costruzione di cavalcavia e sottopassi, rifacimento del manto stradale e la sistemazione di cordoli, impianto di illuminazione, barriere segnaletiche. Il costo stanziato è di 12 milioni di euro per completare questo tratto di 2 chilometri. Il progetto prevede poi di connettersi in futuro con la strada regionale 8 Talsano a Betrana, per la quale a marzo scorso è stata affidata la progettazione definitiva. Su quest'ultimo tratto, per esperienza, ci vorrà del tempo, forse troppo, ma sul tratto iniziale bisogna andare avanti celermente. Infatti questa strada sarà utilissima per i giochi e per la movimentazione di atleti e pubblico. I giochi del Mediterraneo 2026, un'occasione da non perdere, soprattutto un evento che dia realmente prestigio a Taranto e a tutto il territorio interessato. Nessuna brutta figura, mi raccomando.